Una cena tranquilla tra due fidanzati che si sarebbe potuta trasformare in un dramma quando un uomo in preda alla follia ha aggredito la compagna, colpendola anche con una roncola. Fortunatamente la vittima ha iniziato ad urlare ed è riuscita così a chiedere aiuto prima che potesse succedere il peggio. È successo lo scorso venerdì sera, quando un uomo 55enne e aretino pregiudicato ha iniziato a minacciare ed aggredire la donna. Poi in un crescendo di violenza ha minacciato addirittura di morte la compagna stratonandola sino a che lei non si è barricchata in camera da letto. A quel punto il 55enne armato di roncola e coltello avrebbe sfondato la porta per poi scagliare un fendente contro la donna che per ripararsi ha opposto le mani e il colpo l'ha raggiunta così all'altezza di un polso. Nonostante fosse ferita è riuscita comunque a chiedere aiuto. I vicini hanno sentito tutto e chiamato il 112. Sul posto due equipaggi della squadra volanti della questura di Arezzo, uno dei quali si è occupato di bloccare l'aggressore che si era dato alla fuga, mentre l'altro si è dedicato a prestare i primi soccorsi alla donna in attesa dell'arrivo del personale medico. Per l'uomo è scattato l'arresto per lesioni aggravate, mentre la donna è stata portata all'ospedale dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. Il 55enne, a seguito della convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.